e bello a tutti ragazzi e ragazze e bello a tutti noi oggi siamo su piggy e faremo una partita ha vinto in faction speriamo che sono io il piggy perchè mi piace molto essere un piggy speriamo che il mappa hanno votato casa wow hanno un bei gusti speriamo che uscirò in fretta e che comunque è una sorpresa del piggy quindi mi farò subito uccidere da dal piggy speriamo che ci saremo in contatto e vi voglio un mondo di bene infatti dai alzati non vuoi perdere dai paura paura raga paura vediamo se il piggy però si è andato così se l'ha sedata ragazzi comunque il mio piggy è troppo carino e bianco bianco molto bello un po' aggressivo wow tutti voglio vedere quel piccolo griggetto capito ragazzi si è stato ucciso vedete il mio piggy quanto è carino infatti ora cambio un attimo e mi metto quello che è carino questo equipaggiamolo ok la 11 wow la 11 io voglio vedere la 11 perché è molto bella è molto bello è molto bello traditor speriamo speriamo sono entrato il forno vabbè è molto bello traditorio 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 anche��요 che cosa the money and 1300 è un momento sono nazca che non funziona la cosa... sono Zora Pel enfim non siamo la lingua d'un qualche che non sono barri guarda Sei indecisa tra me, e te La cosa che si faccia queste cose tu ci sai Sei indecisa tra me, e te La cosa più che puoi La cosa che si faccia queste cose tu ci sai Sei indecisa tra me, e te La cosa che si faccia queste cose tu ci sai Sono indeciso tra me e te L'uragano di tutta in cian C'è una con i tuoi La cosa è che se faccio queste cose tu ci sai Sono indeciso tra me e te L'uragano di tutta in cian A cena con i tuoi La cosa è che se faccio queste cose tu ci sai Sono indeciso tra me e te In cian Sono indeciso tra me e te C'è una con i tuoi La cosa è che se faccio queste cose tu ci sai Sono indeciso tra me L'uragano di tutta in cian A cena con i tuoi La cosa è che se faccio queste cose tu ci sai Sono indeciso tra me e te Non c'è Chiara Chiara stasera per cento la mancia puttana di patate Sì Chiara perché mi metti vicino ai lembi Chiara C'è una con i tuoi La cosa è che se faccio queste cose tu ci sai Sono indeciso tra me No Vieni qua guarda dove stai Lenia Lenia Ragazzi sto scappando Da quel brutto porcello Chiara Chiara guardi Lenia come si è messa fuori qua Chiara è qua Chiara è qua Ehi Spena Ehi guardi se avessi che la copertina addosso Chiara è qua 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 Aire Se il Pettico lui 450 pulitami Chiara, guarda. Chiara, guarda, guarda. Si ho capito! Va, va, va. Non, 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 non. La fa, ammessi, ammessi. Vieni, sai che era proprio ireto. Vieni, vai, vai. Va, vai, vai. Vai, vai. la cosa che si gira sono indecisi adrambe non ci hanno avuto la cosa che si fucuca sai e ragazzi ci sentiamo ciao ciao ci sentiamo ciao